Torna per la seconda edizione a Civitavecchia, nella nostra città, ma si tratta di un'iniziativa nazionale, addirittura al quindicesimo anno, Conoscere la Borsa. Allora partecipa la Fondazione ancora una volta a questo progetto e allora quelli che sono i tratti più salienti di questa iniziativa. Conoscere la Borsa è un progetto che ha già iniziato da 15 anni, ma che vede la partecipazione delle scuole superiori di Civitavecchia da due anni, questo è il secondo anno e anche quest'anno devo dire che i nostri studenti si sono dimostrati molto molto in gamba. Un concorso non solo nazionale ma internazionale, infatti le nostre scuole che sono risultate nella graduatoria delle scuole vincenti faranno parte anche di una graduatoria internazionale. Ma per parlare del concorso di cui io sono soddisfattissima sarà l'ingegnere Andrea Bargiacchi, il direttore generale della Fondazione, che segue, va a fare addirittura lezioni per far comprendere ai ragazzi di che cosa si parla esattamente, di come si si avvicina al mondo del risparmio, al mondo delle borse. L'anno scorso siamo stati vincitori in Italia, quest'anno abbiamo annoverato la squadra del Guglielmotti, i ragazzi del Guglielmotti che sono state le prime classificate nel nostro concorso interno, sono state le quarte classificate a livello nazionale nel concorso per i titoli sostenibili. Così come quinti classificati è stata un'altra squadra del Marconi, quindi vediamo grandissima partecipazione dei ragazzi, grandissime attività, fare cultura finanziaria è un elemento centrale fra le attività proprio delle fondazioni. Anche quella è cultura, è cultura di tutti i giorni, cose che ormai sono diventate imprescindibili. La fondazione sostiene economicamente questo progetto, i ragazzi primi qualificati, proprio la squadra del Guglielmotti sarà ospite nelle Marche, avremo questa manifestazione nazionale dal 5 al 7 maggio. Successivamente i ragazzi potranno essere coinvolti per la premiazione finale a Palermo, dove si svolgerà l'evento anche a livello internazionale.